Fabrizio Gallo, allenatore del settore giovanile della Riva Rinalese, oggi però ti intervisto come genitore, stiamo seguendo una partita dei tuoi bimbi, che emozione provi intanto? Ma intanto sicuramente è diverso dalla solita partita, perché comunque tra l'altro è la prima partita che giocano, diciamo ufficiale, quindi è un'emozione grossa, devo dirti la verità. Sono due gemelli, pur essendo gemelli, molto diversi, in che cosa differiscono calcisticamente parlando? Ma intanto ti posso dire che sono contento perché si stanno divertendo tutti e due ed è la cosa principale, si differiscono, uno è un po' più veloce, l'altro è un po' più grintoso, però diciamo che si impegnano, è la cosa più importante. Fabrizio, per adesso l'importante, la regola basilare per questi bambini è il divertimento? Ma sicuramente la cosa più importante per i bambini è divertirsi e cercare di imparare a giocare, il risultato penso sia l'ultima cosa che deve venire. Ancora una cosa Fabrizio, se un domani tu sei allenatore dei settori giovanili ormai da tanti anni, dovessi allenare i tuoi due gemelli, sicuramente non sarebbe facilissimo? Ma sicuramente per un allenatore, allenare i propri figli è duro, io ti dico la verità, sarebbe una cosa che non vorrei mai fare perché poi va a finire che o penalizzi troppo i tuoi figli o per un'altra cosa rischi di aiutarli troppo, preferisco che gli allenino altri, forse è meglio così. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Voi, sì. Voi, voi, v Salvaggio! Voi, vieni. Grazie.